Buongiorno a tutti e bentornati in un nuovo video, in un nuovo vlog. Allora, come ho detto nel vlog di ieri, tra virgolette vlog, perché anche ieri comunque non è stato chissà che, oggi vi avevo detto che faccio se c'ho tempo, se c'ho voglia, il video dove vi faccio vedere cosa combino io tutto il giorno in quarantena. Ebbene, oggi diciamo che mi sono sveglietta un po', tra virgolette, energica, tra virgolette, e quindi ho deciso appunto di fare questo video. E niente, la mattina ovviamente mi sveglio come tutte le persone, ovviamente, e la prima cosa che faccio assolutamente, e come cavolo parlo, assolutamente, è prendere il telefono e guardare un po' di tutto, Instagram, Whatsapp, Youtube, in generale, tutto, tutto, tutto. Dopo, quando mi stufo, decido di alzarmi e di fare le cose che fanno le persone normali, appunto bagno e colazione. Ecco, dopo di che vengo in camera di nuovo a fare il letto, ecco, perché la mattina quando ho fame non c'ho voglia di fare niente, quindi faccio dopo quando mangio, e dopo ovviamente mi ritorno nel letto sul telefono. Però giustamente, visto che ho già controllato e già fatto tutto la mattina prima di andare a fare colazione, quindi guardare Instagram, Whatsapp, eccetera, eccetera, dopo, giustamente, vorrei stare sul telefono, però non ho cosa fare, quindi Instagram l'ho già visto, Whatsapp l'ho già visto, Youtube l'ho già visto, quindi cosa faccio? Sto a guardare i muri, praticamente. Ecco, dopo di che, appunto, stufandomi, annoiando, sapete che io non sono una gran fan dei libri, quindi non ne leggo tanti, però giustamente in quel momento, dalla noia, prendo il libro e me lo sfoglio, tipo io ho preso questo, delle ricette, solo per guardare le immagini, non per leggere, capito? Ecco, giusto per, insomma, mi stampò questo libro con le immagini così lungo e largo, insomma, non mai che ne fregasse qualcosa, però, ecco, insomma, ci sono delle ricette che appunto non ho mai provato e non ho sto stimolo di provare, sinceramente, perché, boh, soprattutto sta quarantena non ha zero. E niente, me lo sfoglio così, senza stare tanto a guardare le immagini, insomma, tanto per, mi stufo, lo rimetto a posto perché è noioso, e prendo quello di Pinocchio, il classico libro di Pinocchio, e questo qui invece mi decido, appunto, di leggermelo un po' più, tanto lo sappiamo benissimo tutti quanti, che io inizio, però alla fine non lo finisco mai, quindi leggerò i primi capitoli e poi basta. Quindi, niente, inizio a leggerlo e mi rigiro ogni tanto perché, non so, sta scomoda e cose così. E all'inizio ci prendo un po' la mano, poi però inizio a stufarmi, vedrete che è così, come vi dico io, sempre così, non so, non so perché. E niente, continuo a girarmi, rigirarmi, addirittura sto a testa in giù, non so se vedete conto, a testa in giù, perché, boh, ero scomoda, allora, boh, pensavo di essere più comoda. E niente, poi mi rigiro ancora, trovo la posizione corretta, la posizione più comoda, e continuo a leggere, continuo a leggere. Niente, dopo, diciamo, tre, quattro, cinque capitoli, fate finta, mi annoio, quindi lo butto via, proprio così, ecco, lo butto via, e inizio a pensare a cosa, a cosa combinare, insomma, tutto il giorno, insomma, voglio fare qualcosa, ecco, perché sono già stufa, e ne ho pieni maroni, insomma. Cosa penso? Prendo il pc e edito, ok. Prendo il pc, detto fatto, insomma, inizio a tirare fuori tutto la baladam lì, tra caricatori vari, cuffie, il caricatore della fotocamera, pc e robe varie, insomma. Inizio ad aprire il pc e ad accenderlo, a sistemarmi, mettermi le cuffie, tutto. In questo caso non ho attaccato il caricatore, perché comunque c'era un po' di batteria sul pc, quindi non c'avevo voglia, giustamente, di attaccare alla presa, ecco, e quindi, niente, inizio a editare finché vi dura la batteria, perché poi, appunto, dopo una mezz'oretta, un'oretta massimo si spegne da solo. E niente, qui vedete appunto che edito, anche qua ogni tanto mi giro e mi rigiro perché sono scomoda, ecco, infatti si può anche vedere dalla mia faccia, penso che sono un po', non lo so, tipo le palle girate, perché sono già stufa e ogni giorno faccio la stessa identica cosa, quindi non lo so veramente cosa combinare. Per questo dicevo anche nel vlog di ieri che in questo periodo in quarantena anche l'editing si è andato in quel paese, infatti vedete che mi sono già stufata, sto già calzacciando, sto già pensando a far altro, io lo prendo a sorridere, però c'è un problema grave, ecco, e niente, quindi mollo tutto, lancio tutto, butto via tutto e cosa faccio? Mi faccio il riposino, sì, un riposino perché sì, mi andava così, non ho dormito abbastanza e quindi prendo il cuscino e mi metto a dormire così, tranquillamente, anche se è pieno giorno, ma che se ne frega, e mi giro, mi rigiro, ovviamente non è che dormirò sei ore, capito? Dormirò un'oretta, non di più, infatti qua vedete che sto facendo delle cose, che cazzo sto facendo, non lo so, e ho preso addirittura il cuscino in braccio, pensando che sia meno moroso, vi dico la verità, mi manca un casino, ecco, e sì, guardate che posizione ed è proprio bellissima, ecco, mi sono stufata, mi sono svegliata, perfetto, ho dormito troppo, neanche un'ora non ho dormito, ecco, e qua inizio già a ripensare cosa combinare, cosa combino, cosa combino, oddio, cosa combino, mi viene già sonno, niente, mi stendo un attimo perché, giustamente, dopo mi accorgo che sono ingrassata, ma giustamente, giustamente, guardate la mia faccia, e, oh mio Dio, oh my God, qua invece mi sto, tra virgolette, entrando in depressione perché ormai sto ingrassando, già ero grassa prima, figurati, dopo la quarantena, ecco, e quindi inizio a fare sport, tra virgolette, non durerà tanto perché mi stancherò subito, quindi mollerò tutto, ecco, infatti dopo cinque minuti ecco il risultato finale che sono già stufa e stanca, bene, a questo punto cosa faccio, ho voglia di parlare, ho voglia di parlare con qualcuno, siccome Anna certe volte non è presente su WhatsApp, ecco, non è che posso andare a romperle le scatole, insomma, allora cosa faccio, se voglio parlare con qualcuno, prendo sto peluche, tra virgolette, peluche, ecco, e inizio a parlarci, come se niente fosse, insomma, parlo praticamente con i peluche, con i muri, con i quadri, tutto normale, vero, tutto, 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 sì, tutto normale, penso, cioè nel senso, non è normale, però in quarantena penso che sia diventata una cosa normale, ce ne sono solo, ditemi voi se non l'avete ancora fatto, se, boh, se vi è capitato di farlo, e insomma, ci parlo, ci ride, insomma, ci gioco, sembro una bambina di tre anni, vabbè, oltrepassate il dettaglio, insomma, fate finta di niente, ecco, ecco, allora, riabbraccio naturalmente, perché faccio finta che sia mio amoroso, infatti ci trovate la somiglianza, vero? Tra quello e il mio amoroso è identico, niente, qua inizio a stufarmi anche qua, sta diventando anche sera, tra virgolette, cioè nel senso è pomeriggio tardi, quattro saranno, e inizio a riprendere il libro, no? E a leggervelo, ovviamente non ho registrato la parte dove prendo il ceno, perché non avrebbe senso, tutti lo facciamo, quindi non ha senso che registro questa parte, e niente, leggo, 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 insomma, un capitolo due, poi mi stufo anche qua, e prendo di nuovo il telefono, il solito telefono, maledetto telefono, che giuro che in questi giorni proprio ce l'ho attaccato al collo, e inizio a cazzeggiare, anche qua inizio a cazzeggiare, guardo un po' dei video, guardo Whatsapp, se mi è scritto Anna, li rispondo, ovviamente, e queste cose qui, insomma, classiche cose, e niente, dopo butto via il peluche, perché mi sono incazzato, ovviamente, giustamente, ecco, infatti vedete la mia depressione, solamente, con le balle girate al massimo, poi arriva sera, naturalmente, e giustamente, stavo pensando, ma cosa posso fare prima di andare a dormire sul telefono, no, perché sono già stata, stacchiamoci un attimo, prendo il pc, edito, e infatti, così ho fatto, ho preso il pc e mi sono messa a editare un altro video, e niente, dopodiché, appunto, mi preparo per andare a dormire, quindi vado a dormire, e buonanotte, ciao! E niente, questo era il vlog di oggi, nel senso che comunque non è tanto un vlog, però più un video specifico, dove appunto vi facevo vedere, no, dove appunto vi facevo vedere la mia giornata in quarantena, che poi comunque ogni giorno è differente, però più o meno quelle le cose che succedono praticamente, praticamente quasi ogni giorno, niente, spero comunque che il video vi sia piaciuto, anche se comunque non era chissà che video, però, insomma, dai!